Due collezioni galattiche. Alex Del Piero, 25 anni, studente CEPU. Al CEPU si incontra bella gente. 800331188. Quando lei... Scusa, buongiorno. Ce l'hai l'orecchio piccanto? Piccanto? Come no? Ma quello vero, se non vedo non credo. Credo? Non ci si può sbagliare. Taglio? Taglia. Taglio. I miei amici, a loro piace piccanto? Piaccio piccanto, sì. Una foto? Per mia moglie, sai? Ecco, pronti? Ti è venuto stavolta? Guarda. Ah, bella coppia, eh? Per favore. E tu? Visto niente. Auricchio, se non lo vedi, non ci credi. È scoppiata la cioccolata! Ci sono gocce anche sui cromini! Non ho creato i cromini! No! Ho creato i cromini alle gocce di cioccolato! Voglio assaggiarli! Debbie Stefani. Salumi Montorsi. Monta genuina in ogni singola fetta. Qualità italiana Montorsi. Puoi stare sicuro. Cos'ha fatto Tele2 alle bollette? 195 lire al minuto più IVA di giorno e 95 lire al minuto più IVA di notte e nel weekend in tutta Italia. Come si trova con Tele2? Tele2. La telefonia fissa senza nessun canone. Non ha ancora attivato Tele2. Chiamate subito 800-22-1022 per l'attivazione gratuita. Che aspetti? Chiama all'800-22-1022. Tele2. Il risparmio è pronto. Chi di sete se ne intende davvero? Sa perché il tè San Benedetto è così irresistibile? Perché è fatto con una grande acqua minerale. Grande sete, grande tè. Tè San Benedetto. Fidati della lombine. Da Star, il nuovo sugo al pomodoro e basilico fresco. Basta aprirlo per sentire il profumo e il sapore fresco del pomodoro colto e preparato in giornata. In un sugo buono come quello fatto in casa. Pomodoro Star. Colto al mattino, pronto alla sera. È squisitissimo. Chicchi conditi. In ogni chicco un vero risotto. E da oggi anche i funghi porcini e al tartufo da risocallo. Lanciere della guardia. Ussaro britannico. Fuciliere di Neuchâtel. Soldatini di piombo. Una straordinaria collezione di pezzi decorati a mano con le fedeli riproduzioni delle divise d'epoca da raccogliere negli esclusivi espositori in legno. E nei fascicoli le battaglie, le tattiche e un'accurata scheda su ogni soldatino. Soldatini di piombo. Il primo fascicolo con il primo soldatino in edicola sulle 4.900 lire. De Agostini. Questo mi mancava. Alex Del Piero, 25 anni, studente CEPU. Al CEPU si incontra bella gente. 800-33-11-88 Ed è tutto anche per questa edizione. Non ci sono aggiornamenti, tranne l'ultimo appuntamento, Didi? Sì, certo, quello consueto con le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Se vorrete, ci vediamo domani. A domani. A domani. Il meteo è presentato da Brrrr, Brancamenta. 12 mesi d'estate. Buongiorno e benvenuti a Meteo 5. Queste le previsioni per oggi. Ancora nuvole su gran parte del nord Italia, con temporali pomeridiani e serali sulle regioni alpine. Bel tempo invece al sud, ma con caldo in accentuazione ed in progressiva estensione da domani, anche al centro e all'Emilia. Nel pomeriggio qualche temporale su Valle d'Aosta, Val d'Ossola, laghi Lombardi, centro-est Alpi, Friule e Veneto. La sera temporali sparsi su Alpi e qua e là anche su Biellese, laghi del nord, Alto Milanese e Triveneto. La notte ancora qualche rovescio su Alpi Lombarde, Alto Adige, Bellunese e Friuli. Al mattino qualche sporadica pioggia sul Brennero e Alpi Carniche, bello sul resto d'Italia. Dati Servizio Meteo Aeronautica e Elaborazione Grafica Epson. Il meteo è stato presentato da Brrrr, Branca Mezza, 12 mesi d'estate. Crudo cotto. Gran biscotto. Bene, prosciutto. Crudo cotto. Gran biscotto. Crudo cotto. Gran biscotto. Gran biscotto. Grazie. Crudo cotto? Chiedi gran biscotto. Ma occhio alla firma. Lancetti, maestro di stile nel mondo. Lancetti, il colore. Lancetti, la seduzione in un mondo. profumo. La perfezione in un abito. Lancetti, la nuova realtà di un nome leggendario. Cosa ha fatto Tele2 alle bollette? 195 lire al minuto più IVA di giorno e 95 lire al minuto più IVA di notte e nel weekend in tutta Italia. Come si trova con Tele2? Tele2, la telefonia fissa senza nessun canone. Non ha ancora attivato? Non ha ancora attivato Tele2. Non ha ancora attivato Tele2. Chiamate subito 800-22-1022 per l'attivazione gratuita. Che aspetti? Chiama all'800-22-1022. Tele2. Il risparmio è pronto. Questo programma è presentato da Infostrada e da Eminflex. Il risparmio è pronto. Giu' la maschera, Ugo. Il vero cacciucco. Oggi si pesca con buitoni. Direttamente dal freezer. Una zuppa di pesce a regola d'arte. Fermo lì. E' pronta in pochi minuti, giusto il tempo per metterci i crostini di pane. Cacciucco buitoni, dove la vai a pescare una zuppa così? Buono sto cacciucco, eh? Accidenti! Abbiamo pescato tutto noi. Tu sei il pesce palla. Lancetti, maestro di stile nel mondo. Lancetti, il colore. Lancetti, la seduzione in un profumo. La perfezione in un abito. Lancetti, la nuova realtà di un nome leggendario. Oggi con Merendomania Molino Bianco. Due merende in più gratis in ogni confezione di flauti. Siete in vacanze e la dentiera si rompe? Con Boni Plus Ripara Dentiere la riparate da soli in dieci minuti. E' facile e sicuro con il prefissaggio. Portatelo sempre con voi. Soldatini di piombo. Una straordinaria collezione di pezzi decorati a mano. La storia delle battaglie è la scheda di ogni soldatino. Il primo fascicolo con il primo soldatino di piombo in edicola a sole 4.900 lire. Questo? Mi mancava. Un mattone per Assisi, la via di San Francesco. Telefonate subito allo 02 2772 e con sole 85.000 lire. Prenotate il vostro mattone personalizzato. Anch'io, Alberto Castagna, ho dato il mio personale contributo ad un mattone per Assisi, la via di San Francesco. Un progetto che permetterà agli uomini e alle donne di tutto il mondo di far parte in prima persona di una grande iniziativa. Il tuo nome o quello dei tuoi cari, la tua città, impressi per sempre su di un mattone che insieme a tutti gli altri verrà posato sulla via di San Francesco. È un appuntamento con la storia, con la prima grande opera del terzo millennio, la via di San Francesco, che collegherà in Assisi tutti i luoghi della storia francescana. Firma il tuo mattone, metti il tuo nome sulla via di San Francesco. Io l'ho già fatto. Da Star Pumarò Rustica. Quando lo apri, senti il profumo e il sapore del pomodoro colto e preparato in giornata, in una passata densa e polposa. Pomodoro Star, colto al mattino, pronto alla sera. Una storia di violenza tra le quattro mura. Devi fare qualcosa, non puoi continuare a farti picchiare. Che cosa ti sei messo in testa? No! Che cosa credevi di fare? È la forza di dire pasta. Se osi picchiarmi un'altra volta, ti sbatto fuori di casa. Fino a quando un giorno... Io ti amo, tesoro. ...sembra che tutto possa ricominciare a nuova vita. Sembra. È stata ingannata. Dietro una porta chiusa, per il ciclo Crimini in Prima Pagina. In Prima TV domani alle 21, su Canale 5. Io sono un uomo morto! È un uomo morto! Ho bisogno di uno che non sia conosciuto. Ci vuole un tipo duro, abile ed esperto, per eliminare una spia pericolosa. Dai, dai, che c'è un milione di dollari che si aspetta! Ci vuole un tipo posto, un genio per astuzia e iniziativa, che al momento giusto prenda tutti per il naso e si riveli un perfetto killer per caso. Che vuol dire non sei un poliziotto? Sono una canaglia. Ezio Criccio. Killer per caso. Stasera alle 21, una prima TV Canale 5. Fitness Nestlé è diverso. Perché è fatto apposta per me. Mi dà frumento integrale, ferro, calcio. E tanta leggerezza per sentirmi bella e in forma. Fitness Nestlé. La linea che ti dona di più. Sfilettate il pesce crudo. Se è fresco, la polpa rimane intatta e nessuno troverà spine. Specialmente pesce. Una vera scuola di cucina. 1500 ricette e gli strumenti per realizzarle. La prima uscita in edicola solo è 500 lire. Specialmente pesce. Idea donna. Lancetti, maestro di stile nel mondo. Lancetti, il colore. Lancetti, la seduzione in un profumo. La perfezione in un abito. Lancetti, la nuova realtà di un nome leggendario. Io non solo coloro i miei capelli, li rivitalizzo. Con nuova L'Oreal Excellence Creme. La colorazione in crema che non cola, naturalmente protegge. Ma in più, nuova Excellence alla ceramide proteine rivitalizza i capelli. Per un colore più ricco e capelli corposi. E come copre i capelli bianchi. Nuova L'Oreal Excellence Creme. L'Oreal, perché io valgo. Come si trova con Tele2? La telefonia fissa senza nessun canone. 195 lire al minuto più IVA di giorno e 95 lire al minuto più IVA di notte e nel weekend in tutta Italia. Per l'attivazione gratuita chiama all'800 22 10 22. Ricorda, 800 22 10 22. Tele2, il risparmio è pronto. Scopri la libertà. Scopri l'intervallo bello. Free Life. Salumi Montorsi. Monta genuina in ogni singola fetta. Qualità italiana Montorsi. Puoi stare sicuro. Ava, come vinci? Con la grande promozione Calimero Europeo ho subito un regale Calimero da collezionare. E se trovi l'Euro Calimero vinci l'Euro Convertitore. Cerca lo in tutte le confezioni. Ava, come l'Ava. Pronto? Ciao, sono Mara. Che torta faccio per Luca? Con pere cioccolato è facile. Sai, ci ha chiesto il motorino. Non avere paura, prova a responsabilizzarlo. Vorrei saper leggere il futuro. Per quello ci sono le carte. Sai tutto, ma quante riviste leggi? Dante, Vera. Con Vera di Settembre in regalo le carte della Luna. È squisitissimo. Chicchi conditi. In ogni chicco un vero risotto. E da oggi anche ai funghi porcini e al tartufo. Da risocallo. Tutto taglio e cucito. Nuovissime proposte moda facili da realizzare con tutto taglio e cucito carta modelli. In ogni numero 4 carta modelli pronti all'uso per il vostro guardaroba elegante e sportivo. in edicola da Hobby & Work. Un filo sottile divide i buoni dai buonissimi. È un filo d'olio molini che rende il tonno star ancora più buono. Tonno star. La differenza tra i buoni e i buonissimi. Per tutto il mese di agosto puoi ricominciare a vivere. I momenti più belli, gli attimi più magici, tutti da rivivere in attesa del ritorno della pastoria preferita. Ricominciare a vivere tutti i giorni per tutto il mese di agosto. E dal 6 di settembre i nuovi episodi di Vivere. La Fanta Fan Island Questo non sei tu. Non ti riconosceranno più. Beviti una Fanta e vola in vacanza. Solo il gusto di Fanta ti premia con la Fanta Fan Island. Vinci subito. In valio 100 viaggi nel club vacanze della mitica isola di Zanzibar. La tua vita non sarà più la stessa. Ti piacerebbe, eh? Fanta Fan Island La vacanza che lascia il segno. 1200 lire Con sole 1200 lire posta prioritaria consegna le vostre lettere dopo un giorno. Sapete come fa? Viaggia in aereo di notte. Basta questo speciale francobollo adesivo. Non ora, mamma! Dove eravamo rimasti? Posta prioritaria! Veloce! Facile! Economica! Da poste italiane! Da star pummarò rustica. Quando lo apri senti il profumo e il sapore del pomodoro colto e preparato in giornata in una passata densa e polposa. Pomodoro star colto al mattino pronto alla sera. del pomodoro ife il can Keep